In linea con le direttive emanate dal sindaco, siamo impegnati in sinergia con le altre forze dell'ordine nelle azioni di pattugliamento del territorio per l'attivazione delle disposizioni Io resto a casa, nazionali, regionali e locali. Il nostro personale, che ringrazio per l'impegno professionale e personale che sta mettendo in campo in questi difficili momenti, assicura i controlli all'ingresso e all'uscita della città ed all'interno dello stesso territorio con sei pattuglie diurne e sei pomeridiani e serali. E' quanto ha detto il comandante della Polizia Municipale di Mazzara del Vallo, Salvatore Coppolino annunciando che sono oltre 700 le persone controllate in città e sono sei quelle denunciate e segnalate per inottemperanza delle ordinanze Covid-19 in vigore. Se da un lato la maggior parte delle persone fermate ha dimostrato che le uscite erano per necessità, lavoro o salute ha sottolineato il comandante Coppolino, dall'altro lato crediamo che sia ancora alto il numero delle persone che circola e quindi rivolgiamo un invito ad una maggiore responsabilità dei cittadini. Occorre rimanere a casa e limitare al minimo indispensabile le uscite, tranne che per motivi eccezionali ed urgenti. I controlli, oltre che stradali, saranno anche incrociati grazie alla banca dati delle persone controllate che abbiamo allestito, ha concluso il comandante, e non esiteremo a sanzionare anche pesantemente chi non rispetta le regole. Grazie a tutti.